A partire dal 2022, la BCE ha iniziato una politica monetaria aggressiva, con l'obiettivo di mettere al tappeto l'inflazione. Attualmente i tassi in zona euro sono arrivati al 4,5%. Parliamo di un valore molto più elevato rispetto al 2020, quando invece erano in prossimità dello zero. Tassi più alti portano sicuramente degli effetti negativi sull'economia, in quanto sopprimono i consumi perché scoraggiano sia persone che imprese a indebitarsi. Tuttavia, allo stesso tempo portano anche dei benefici ai risparmiatori cauti che desiderano far lavorare i propri risparvi. Infatti ragazzi, con la politica monetaria aggressiva della BCE finalmente è ritornato in voga il conto deposito, il più sicuro fra gli investimenti, perfino più sicuro dei BTP e tra poco vedremo perché. In questo video approfondiremo questo tema e in particolare vedremo le seguenti cose. Cos'è il conto deposito? Quali sono i suoi vantaggi? Meglio libero o vincolato? È un prodotto sicuro? Quali sono i suoi costi? Perché la banca ci paga degli interessi? Che fine fanno i nostri soldi una volta depositati? Infine ti consiglierò un ottimo conto deposito senza vincoli che anche io sto usando per far fruttare una parte dei miei risparmi. Quindi se ti interessa questo video mi raccomando rimani qui con me e iniziamo subito. Negli ultimi mesi sempre più persone si stanno domandando se sia questo il giusto momento di vincolare i propri risparmi in un conto deposito. Questo tipo di conto a differenza di quello classico permette di depositare i risparmi in modo tale che producano nel tempo una rendita senza rischi. Inoltre a differenza dei conti correnti ha un'operatività ridotta. Infatti le uniche operazioni che si possono compiere sono prelievi e versamenti. Quindi chi ha bisogno di gestire le proprie spese quotidiane, effettuare bonifici o ricevere lo stipendio userà il tradizionale conto corrente ma potrà versare all'occorrenza i risparmi nel conto deposito per generare delle rendite. Devo dire che in questo periodo storico la remunerazione che le banche e le piattaforme di investimento offrono sulla somma parcheggiata non è per niente male, considerando quanto è tranquillo questo tipo di prodotto. Infatti ragazzi sul mercato esistono conti deposito che offrono rendimenti superiori al 4% lordo annuo, praticamente il doppio rispetto un anno fa. Il rendimento di questo prodotto dipende moltissimo da un fattore in particolare. Vincolato o non vincolato? Il conto deposito vincolato ti offre un rendimento più alto, questo è vero, però ti richiede di impegnare i tuoi soldi per un periodo di tempo prestabilito che può variare dai 3 ai 60 mesi. Se vuoi ritirare i tuoi soldi prima della scadenza devi pagare una penale. Invece il conto deposito non vincolato, che è quello che preferisco sinceramente, ti offre un rendimento più basso, ma ti dà la possibilità di prelevare i tuoi soldi in qualsiasi momento senza penalità. Quindi se una mattina ti svegli e dici no, basta, ora tiro fuori i miei soldi perché voglio investirli in azioni d'etf, puoi farlo senza problemi. Per questo che io mi sento più incline a consigliarti un conto deposito non vincolato come quello di Freedom24. Il conto D di Freedom24 non prevede nessun costo di gestione o attivazione e paga un interesse del 2,5% anno sui depositi in euro. Quindi ad esempio su 1000 euro otterrò 25 euro di interessi. Ci sono essenzialmente quattro cose che mi piacciono molto di questo conto. Si possono depositare quanti soldi si vogliono, non ci sono commissioni per il deposito, posso prelevare la mia somma in qualsiasi momento e un'altra cosa che mi fa piacere è che gli interessi vengono pagati giornalmente. Ecco, se volete aprire anche voi il conto D, cliccate sul link in descrizione che vi farà atterrare su questa pagina. Una volta qui, schiacciate su iscriviti e poi proseguite con la registrazione. Comunque ragazzi, per chi non lo sapesse, Freedom24 è un broker piuttosto noto e l'unico a livello europeo ad essere quotato al Nasdaq. La società che lo controlla ha un capitale di circa 4,7 miliardi di dollari e oltre un milione di clienti in otto paesi diversi. Vi ricordo che fino al 7 novembre è disponibile la promo di Halloween, grazie alla quale è possibile ricevere fino a 20 azioni in regalo, dal valore compreso fra i 3 e i 700 dollari ciascuna. Dipende da quanto siete fortunati. Una volta registrati bisogna solamente effettuare un deposito e inserire i codici promozionali corrispondenti. Trovate tutta l'info qui sotto al video. Ora, andiamo a trattare un altro aspetto del conto deposito molto importante. Per quale ragione la banca paga questi interessi così succosi sui soldi che parcheggiamo? Per due motivi. Per attirare nuovi clienti e per guadagnarci, ovviamente. I soldi che noi versiamo in questo contenitore digitale non rimangono lì a prendere polvere, ma le banche li sfruttano per finanziare le loro attività, come erogare prestiti, investire in titoli oppure operare sui mercati finanziari. In questo modo gli istituti di credito possono ottenere un profitto dalla differenza tra gli interessi che pagano ai depositanti e quelli che ricevono dai debitori e dagli investimenti. Ma un altro aspetto positivo di questi prodotti che piace parecchio ai risparmiatori è quello legato alla sicurezza. I conti deposito sono considerati sicuri perché sono protetti dal fondo interbancario di tutela dei depositi. Se la tua banca fallisce, questo ente pubblico interviene e rimborsa le somme depositate fino a 100.000 euro per depositante. Il fondo interbancario si attiva automaticamente e non richiede alcuna richiesta da parte dei depositanti. Ma la seconda ragione in merito alla sicurezza che piace ai risparmiatori è anche il fatto che questo prodotto non è soggetto a volatilità, cosa che invece accade per i BTP. I BTP ragazzi come ben saprete sono i titoli di stato emessi dal nostro governo per finanziarsi e rappresentano un altro tipo di investimento considerato sicuro in quanto garantisce una cedola fissa pagata semestralmente. Inoltre il rimborso del capitale investito è garantito dallo stato alla scadenza del titolo. Però a differenza dei conti deposito, se noi investiamo in BTP vedremo continue oscillazioni in portafoglio. Questo accade perché il prezzo dei BTP dipende dai rendimenti che a loro volta sono influenzati dai tassi di interesse e dalla domanda e dall'offerta. Per esempio quando la BCE alza i tassi, i rendimenti dei titoli di stato di nuova emissione sono superiori a quelli di vecchia emissione. Questo si traduce nel fatto che i titoli di vecchia emissione perdono valore di mercato e quindi il loro prezzo scende. Questo significa che se vendiamo i BTP prima della scadenza potremmo subire una perdita. Discorso diverso invece per i conti deposito che non sono soggetti ad alcuna volatilità. Il loro rendimento è fisso ed è garantito per tutta la durata del contratto. I BTP possono offrire rendimenti più elevati dei conti deposito, questo è vero, ma richiedono anche una maggiore tolleranza al rischio e una maggiore flessibilità temporale. I conti deposito sono più adatti a chi cerca una soluzione semplice, sicura e a breve termine. Ora invece affrontiamo l'ultimo tema riguardo a questo prodotto di investimento, ovvero i costi. Ormai molti conti deposito si possono aprire online e non hanno spese di apertura, di gestione o di chiusura. Bisogna però fare attenzione allo stesso ad altri possibili costi. Se per esempio una banca richiede l'apertura di un conto corrente presso di sé per poter avere anche il conto deposito, allora bisogna tenere conto dei costi del conto corrente associato. Ti ricordo inoltre che sui rendimenti guadagnati bisogna pagarci le tasse purtroppo, pari al 26%. In aggiunta il fisco italiano ti applica anche l'imposta di bollo, pari allo 0,2% di quanto hai investito. Quindi possiamo dire che il conto deposito è lo strumento ideale per persone che hanno una bassa tolleranza al rischio e che vogliono far crescere i propri risparmi nel corso del tempo. La scelta fra quello libero vincolato dipende molto dalle proprie esigenze. Se ad esempio hai una somma di denaro che sai che non toccherai più per un certo periodo di tempo, il deposito vincolato può essere una soluzione più azzeccata. Se invece vuoi depositare una somma e avere però la possibilità di poter prelevare i tuoi soldi in caso di necessità quando vuoi, allora il deposito libero è la soluzione migliore. È proprio per questa ragione che ti consiglio il conto di di Freedom24, in quanto i tuoi soldi li puoi trasferire sul conto di trading oppure prelevare in qualsiasi momento senza alcun problema. Ecco, per maggiori info trovi il link qui sotto in descrizione. E il video è arrivato alla fine ragazzi, mi raccomando qui sotto nei commenti fatemi sapere se vi è sembrato chiaro questo video dove per appunto vi ho spiegato come funziona il conto deposito. Inoltre fatemi sapere se voi siete più propensi per un investimento più rischioso come quello in azione oppure in etf oppure se vi piacciono i prodotti più tranquilli come il conto deposito. Grazie per la visione, io vi saluto e vi mando un grande abbraccio. Alla prossima!